Il gigantismo navale, l'alternativa energetica, sono gli appuntamenti ai quali dobbiamo arrivare puntuali, pronti. Ecco perché a Roma dobbiamo portare due, tre, quattro, cinque pratiche importanti al governo di centrodestra guidato da Giorgio Meloni. Dobbiamo essere nelle condizioni di rimettere la Sicilia e il Mezzogiorno d'Italia al centro dell'agenda di governo. Sì, dobbiamo ricordare a Roma che in Sicilia abbiamo 1.500 chilometri di ferrovie ma soltanto il 15% è a doppio binario. Vergogna! Come se fossimo ai tempi dei cuofoni! Dobbiamo ricordare a Roma che abbiamo 1.500 chilometri di ferrovie ma meno della metà è elettrificata! Dobbiamo ricordare a Roma che abbiamo 1.500 chilometri di ferrovia ma qui i treni non possono superare i 95 chilometri orari perché il sedimento ferroviario è fragile perché qui lo Stato non spende da almeno 30 anni mentre al nord le ferrovie vanno a 200, i treni a 200, 350 chilometri orari almeno. Ecco cosa dobbiamo dire a Roma. Dobbiamo!